benvenuti in questo brevissimo tutorial diamo un'occhiata ai quick shot della dj i fly il primo dei quick shot che andiamo a guardare oggi è droni vedete che c'è la possibilità di gestire i metri 25 30 35 e via dicendo noi prenderemo l'esempio dei 25 metri la cosa importante è andare a selezionare la persona che si sta andando a filmare e automaticamente partirà il selfie drone una volta arrivato ai 25 metri prenderà e ritornerà in automatico alla posizione di partenza diamo un'occhiata alla seconda quick shot ovvero il rocket sempre con la possibilità di gestire più metri dai 25 in su si seleziona sempre la stessa persona vedete i metri arrivano fino a 40 rocket si pisa il pulsante start e dopo tre secondi di attesa parte con la registrazione e la verticalizzazione del video arriva fino ai metri impostati sull'applicazione si ferma stop alla registrazione e rientra la base terzo possibile utilizzo sempre sotto il menu quick shot è il circle abbiamo la possibilità di girare in senso orario o in senso anti orario selezioniamo come al solito il soggetto e gli diamo il start qualsiasi tasto andremo a pigiare o leva andremo a toccare del nostro radiocomando l'applicazione terminerà il quick shot ultimo quick shot eccolo qui helix sempre con la possibilità di scegliere i metri desiderati come al solito selezioniamo la persona e facciamo partire la nostra spirale state attenti in questo tipo di ripresa perché il drone in questo momento non ha in questo caso non ha sensori anti collisione e come vedete si allarga e si allontana leggermente dal nostro soggetto che stiamo riprendendo quindi occhio a non andare a rischiare di schiantarvi contro un muro contro un albero contro un palo o contro la collina stessa bene rientra alla base anche il drone e abbiamo terminato questo semplice tutorial dei quick shot se vi è piaciuto iscrivetevi al canale non dimenticatevi di cliccare la campanellina e noi ci vediamo con il prossimo video ciao ciao ciao